E' stato un rato difficile. Si, era davvero difficile. E' solo trovare un ritmo che puoi mantenere più di un'ora. Come vincere il titolo nazionale? E' stato incredibile per me. E' stato come una campeonata mondiale. Ma per i ragazzi belgiani è come una campeonata mondiale. E' felice che potrei mostrare il giro per un anno. Ma che credi di essere dei prossimi mondi in Oztenda? Sì, sarà bello. Abbiamo avuto i nazionali qualche anno fa. E' stato incredibile da ciò che sta a vivere. La campeonata mondiale sarà più di quello. E' spero di essere. Grazie!